Sana 2016, tra le novità di Argital c'è anche una linea 5 giorni per lei. Qui accanto a me c'è il dottor Ferraro che ci spiega che cos'è e quali sono le proprietà naturali. La linea dei 5 giorni serve per lenire i disturbi legati al ciclo mestruale femminile. I principi attivi sono due, sono la potentilla e il gel d'argilla verde. Ecco, come funziona e che cosa porta insomma al ciclo mestruale? Funziona, c'è la crema, l'olio e la compressa dei 5 giorni. La crema e l'olio si spalmano sulla regione pubica e hanno un'azione immediata proprio sui dolori mestruali e sulla sintomatologia legata a questi dolori. Le compresse oltre a far passare i dolori e quindi a lavorare in sinergia con la crema e l'olio hanno un'azione anche sul mal di testa di natura legato diciamo alla sfera genitale e ormonale della donna. Ecco, prima parlava dei componenti di questa crema che sono del tutto naturali, ce li descrive? Sì, i componenti sono tutti naturali, diciamo c'è il gel d'argilla verde, la potentilla, poi c'è la salvia, sclarea, l'uva ursina, l'equiseto e il lamium albumo che è l'ortica bianca. Sono tutti componenti provenienti dal mondo vegetale tranne l'argillo ovviamente che proviene dal mondo minerale. Non ci sono altri componenti sintetici ma i prodotti in sé, sia la crema che l'olio, hanno come componenti secondari sempre componenti naturali come per esempio l'olio di mandorle dolci.